Ciao, bentornati su MyFootballGelsy. Oggi vedremo insieme la maglia di casa del Southampton per la stagione 22-23, quella ben dintiata, nella versione FUN. Prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi piace, mi raccomando, ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ora vi lascio alla vista dei dettagli, ci vediamo alla fine. Ciao! Ciao! La maglia da calcio HOM del LUMMEL Southampton 2022-23 contiene molto più bianco di quello che siamo abituati a vedere dai Sainz. Tra ispirazione dal kit indossato dal club nei primi anni 80, invertendo i colori, il risultato è una sorprendente striscia rossa centrale e stemma centrale su base bianca. La fascia è delimitata da linee nere che scorrono nel colletto tondo nero. Un motivo geometrico, contemporaneo tratto dagli iconici calendari di St. Mary's Park, si trova sul fronte e sul retro della maglia. Il posizionamento centrale dello stemma distingue questo kit dalle stagioni precedenti. La scolatura interna presenta anche il logo HOMEL. HOMEL combina la maglia con pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Molto bella! Questa maglia, nella mia personalissima classifica, prende 4 stelle. Fatemi sapere nei commenti se condividete o meno il giudizio. Qui in alto vedete il prezzo che aggiunge se non che è un prezzo bassissimo. Peraltro compro una maglia fatta veramente molto bene con tutte le rifinite giuste, con le picchiette attaccate nel modo corretto e che arriva con un tempo molto veloce. Questa è arrivata in 17 giorni. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 3 dollari da poter utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di vedervi prossimamente in altre recensioni. Ciao! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, della versione Fan. Ciao! 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 Ciao!